Configurare un SoftStarter ADXL è semplice, veloce e si può fare anche a dispositivo spento. Prima di iniziare, verifica di avere attivato la funzione NFC dalle impostazioni del tuo smartphone. Appoggia lo smartphone sull'ADXL Lovato Elettrico. Se non hai già installato l'app Lovato NFC, un link a Google Play comparirà istantaneamente per il download. Una volta installata l'app e scaricati i driver, appoggia di nuovo il tuo smartphone sul SoftStarter in questo modo. In un secondo, l'app si aprirà, riconoscerà il dispositivo e ne rileverà tutti i parametri. Allontana lo smartphone dal fronte dell'ADXL e inizia la configurazione. Puoi facilmente modificare tutti i parametri a tuo piacimento. Ora, salva la configurazione sul tuo smartphone. Puoi trasferire in un lampo le stesse impostazioni su tutti i SoftStarter che vorrai. Perfetto per chi fa programmazione in serie, vero? Una volta terminate le modifiche ai parametri, premi il tasto Invia. Riavvicina lo smartphone sul fronte dell'ADXL e la nuova configurazione verrà scaricata sul dispositivo. Prova la funzionalità NFC sui SoftStarter serie ADXL di Lovato Elettrico. Il lavoro di installazione non sarà mai più come prima.